Buongiorno a tutti cari amici e ben trovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave. Oggi venerdì 22 gennaio in studio a Belluno ci sono io Martina Reolone vi farò compagnia con la lettura di alcuni dei principali titoli che sono presenti oggi sui quotidiani locali. Si parla ovviamente di coronavirus ma anche di scuola sempre legata alla pandemia della questione vaccini e di altro ancora andremo subito a leggere. Partiamo con il Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è dedicato ai certificati vaccinali falsi 5 genitori nei guai. Nel mirino le dichiarazioni rese per far ammettere i figli a lezione rifiutano il decreto di condanna. Il vaglio certosino con cui sono state verificate le dichiarazioni sui vaccini dei figli allegate alle iscrizioni scolastiche ha fatto emergere numerose incongruenze. Parliamo delle dichiarazioni che sono necessarie da qualche anno per le iscrizioni scolastiche. Le incongruenze hanno fatto emergere decreti penali di condanna da 1125 euro e 5 processi che si stanno aprendo per altrettanti genitori che si sono opposti. Andremo a leggere poi questo articolo. Ancora oggi ci sarà il verdetto Veneto numeri da zona gialla ma Zaia non ha fretta. Ricordiamo che in questo momento siamo in zona arancione. A Cortina una notizia di cui abbiamo dato nota anche ieri sembrava Covid era diabete salvato dal coma a 10 anni e poi partiremo subito con questa notizia. La foto di copertina è dedicata alla didattica a distanza che resta. I ragazzi dicono siamo alienati e si vede una foto con un ragazzo in possesso di un cartello seduto a terra con un cartello in cui si legge priorità alla scuola. E c'è un articolo di Paola Dallanese. Il TAR ha declinato la richiesta di sospensiva sulla DAD quindi fino al 31 gennaio. Le scuole superiori continuano con la didattica a distanza. E poi ci sono storie e volti, operatori in crisi, senza turisti, la montagna è allo stremo e ci sono una serie di testimonianze che riguardano i protagonisti del turismo invernale che lottano con le conseguenze dell'emergenza. C'è un articolo di Francesco Dalmas. Andiamo subito a pagina 36 per la notizia che riguarda il bambino salvato a Cortina d'Ampezzo. Ecco ci arriviamo subito. Sembravano i segni del Covid, era diabete, bambino di 10 anni salvato dal coma. Come malattia non gli era mai stata diagnosticata, stava sopravenendo la chetoacidosi, è stato un intervento vitale. Salvato all'ospedale di Cortina un bimbo di 10 anni in chetoacidosi. L'equipe medica del punto di primo intervento del Putti ha infatti rilevato il diabete mellito di tipo 1, mai diagnosticato in precedenza, in un giovanissimo paziente ed è riuscito a salvarlo scongiurando il pericolo che entrasse in coma. Il fatto risale a poco prima della fine del 2020, ma è stato reso noto dalla struttura solo ora che il bambino sta bene e ha potuto rimpredere la normale vita quotidiana e ritornare anche a scuola. Dopo qualche giorno di inappetenze e malessere, il ragazzino, 10 anni, di San Vito di Cadore, aveva iniziato a presentare forti dolori addominali, di psnea e nausea. La famiglia in alnarme lo ha prontamente portato al punto di primo intervento di Cortina. Papà, mamma e figlio erano tutti e tre stati contagiati dal Covid ed erano in attesa del secondo tampone che ne confermasse la negatività. Abbiamo chiesto ai genitori di rimanere all'esterno della struttura per sicurezza, mentre il ragazzino era invece risultato negativo già al primo tampone, spiega il dottor Massimo Vota, responsabile del punto di primo intervento. Quando è arrivato all'ospedale, al bambino mancava il fiato, aveva la lingua secca e il primo pensiero che ci è venuto è stato quello di una polmonite da Covid. Abbiamo immediatamente fatto una lastra, l'elettrocardiogramma, gli esami ematochimici e abbiamo visto dalla lastra che i polmoni erano puliti e dal prelievo del sangue arterioso abbiamo individuato invece un valore molto alto della glicemia e un disequilibrio acido base. I risultati degli esami quindi hanno permesso ai medici di dare un nome alla patologia che affliggeva il ragazzino. Chetoacidosi, una complicanza acuta del diabete mellito di tipo 1 che, se non individuata e trattata prontamente, può portare al coma e nei casi più gravi anche al decesso. Abbiamo quindi seguito protocollo, idratazione con soluzione fisiologica con la flebo per poi introdurre quantità modeste di insulina, spiega ancora il medico, con tutta la prudenza del caso per poi reintrodurre il potassio mancante consentendo di abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Quindi il bambino si è salvato e senza il pronto intervento sarebbe andato sicuramente in coma. Gli abbiamo salvato la vita, dice il dottore. All'inizio eravamo davvero molto spaventati dalle condizioni di nostro figlio, raccontano i genitori, ma fortunatamente è andato tutto nel migliore dei modi. E c'è anche un articolo a fianco che parla appunto della struttura di punto intervento. Aperti 24 ore su 24, attività che sembra un pronto soccorso. In attesa della ristrutturazione del Co di Villa, il punto di primo intervento dell'ospedale di Cortina è stato trasferito al Putti assieme ai servizi essenziali ambulatoriali. A differenza della scorsa gestione del Co di Villa Putti, che prevedeva un punto di primo intervento di tipo B gestito dall'Ulss 1, ora il punto di primo intervento è di tipo A, il che non lo differenzia molto da un pronto soccorso vero e proprio. Si lavora appunto 24 ore su 24 con un'organizzazione medica e infermieristica attiva. Quando torneremo al Co di Villa potremo avere più unità operative di riferimento e quindi più specialisti, spiega ancora Massimo Vota, che è responsabile del punto di primo intervento. Torniamo indietro, andiamo alla prima di Belluno relativa al caso dei certificati vaccinali falsi. Siamo in questo caso a pagina 19 del Corriere delle Alpi. A scuola con i certificati vaccinali falsi, cinque genitori vanno davanti al giudice. Contestate le dichiarazioni allegate alla domanda di iscrizione dei figli, respinto il decreto di condanna, vogliono il processo. L'articolo è di Cristina Contento. Qualcuno era un Novax ma poi ci ha ripensato e ha vaccinato il pargolo, qualcun altro ha firmato l'autocertificazione dicendo effettivamente la verità, qualcun altro ha subito l'accertamento e dalle carte non è risultata la vaccinazione. In cinque, tanti casi di genitori finiti sotto le forche della giustizia, si sono visti recapitare un decreto penale di condanna di 15 giorni di reclusione trasformati in 1.125 euro di sanzione. Multa opposta. Ieri erano tutti davanti al giudice a dover rispondere di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, un po' come oggi con le autocertificazioni per muoversi nel lockdown. I fatti ovviamente non sono recenti, risalgono e l'indagine sulle certificazioni dei genitori è quella portata avanti dal procuratore Paolo Luca negli anni 2017 e successivi, quando fu messa in atto la protesta Novax che coinvolse l'iscrizione dei bambini negli asili e nelle scuole elementari perché frequentassero scuola, appunto perché non volevano portare l'autocertificazione che attestasse che i bambini erano stati vaccinati. Le autocertificazioni che i genitori dovettero compilare per attestare che i figli avevano eseguito le vaccinazioni furono passate a setaccio e in molti si sono ritrovati nel ben mezzo di un'inchiesta. In quasi tutti i casi la magistratura ha rilevato una violazione, la posizione del genitore si è conclusa con un decreto penale di condanna che ha combinato 1.125 euro di sanzione, ma in molti però non hanno gradito magari perché nell'autocertificazione avevano detto le cose come stavano. Si sono rivolti un avvocato e hanno posto il decreto affrontando un vero e proprio processo. Ora torniamo indietro di nuovo e andiamo a leggere le notizie che riguardano la pandemia Covid. Siamo a pagina 2. Decreto del Tar, le superiori restano chiuse. I giudici bocciano la richiesta di sospensione dell'ordinanza regionale nelle scuole del Veneto lezione a distanza fino al 31 gennaio. L'articolo è di Filippo Tosato. Le scuole superiori rimarranno chiuse fino al 31 gennaio come previsto dall'ordinanza di sanità pubblica firmata da Luca Zaia. L'ha decretato la prima sezione del Tar del Veneto respingendo l'istanza di sospensione del provvedimento avanzata da un gruppo di genitori che sollecitano il ritorno in classe di ragazzi e insegnanti. La decisione, per molti versi in attesa, riflette la valutazione articolata e fortemente pragmatica riassunta dalla Presidente Maddalena Filippi a conclusione del contraddittorio preliminare. Pur riconoscendo con una qualche legittimità alle contestazioni contenute nel ricorso, la giustizia amministrativa prende atto che il riavvio delle attività didattiche in presenza richiede un periodo minimo di 5 o 6 giorni e ricorda che la didattica a distanza negli istituti superiori, con una sola parentesi di 45 giorni in presenza, perdura da 120 giorni. Sul versante del rischio viene rilevata la non univocità di valutazione dei dati epidemiologici da parte degli enti competenti. Nel merito il TAR ha ascoltato le ragioni contrapposte e si è deciso che non si ritornerà con la didattica in presenza fino al 31 gennaio, didattica a distanza fino al 31 gennaio e poi riparte anche la didattica in presenza. Presto ci sarà una nuova verifica epidemiologica, Zaia ha commentato dicendo che la decisione del TAR e l'ulteriore dimostrazione che qui non si fanno le ordinanze per il partito preso, anche se qualcuno lo vuole far credere, mi dispiace che la politica abbia cercato di strumentalizzare un problema sanitario. Per quanto riguarda quindi le altre reazioni, l'obiettivo essere sicuri di tornare in aula. A febbraio i promotori del ricorso dicono la decisione è stata rinviata il 27 gennaio prossimo, centri commerciali aperti mentre i nostri ragazzi sono a casa. Questa la protesta. E poi c'è anche un approfondimento bellunese per quanto riguarda sempre la tematica scuola, l'impatto sulla scuola e siamo a pagina 3. La didattica a distanza toglie stimoli ed emotiva Olimpiadi della filosofia per ritrovare slancio, l'articolo è di Paola Dallanese. Demotivati, stanchi ma con la voglia di tornare presto in classe e in presenza sono gli studenti bellunesi degli istituti superiori che da oltre due mesi sono tornati alla didattica a distanza. Catapultati ancora una volta in un metodo che, se da un lato permette loro di continuare a studiare e seguire le lezioni, dall'altro però li priva della socialità, del contatto con i loro coetani ma anche con i docenti. Dopo l'allarme lanciato dai dirigenti scolastici per lo stato di demotivazione di molti ragazzi che li ha spinti ad attivare lo psicologo scolastico, la parola ora spetta agli studenti. L'articolo continua poi con una serie di testimonianze. Per superare tutto questo i ragazzi hanno pensato di mettere in atto delle iniziative che possano stimolare l'attenzione. Per rompere la monotonia e le difficoltà della DAD stiamo spingendo sui docenti per attivare alcuni progetti come le Olimpiadi della filosofia, spiega Mitia Boff, che è uno studente del quarto anno del liceo scientifico dal Piazza di Feltre. Si tratta di un'esperienza che prevede lavoro individuale, anche se extracurricolare, un lavoro più critico e analitico che possa far emergere delle opportunità e degli stimoli ulteriori per studiare. E come dicevamo prima, sempre a proposito di pandemia, il Veneto è tra giallo e arancione. Oggi infatti c'è la nuova decisione sulla fascia, sulla zona in cui dovrà essere inserito il nostro territorio regionale. Veneto tra giallo e arancione si legge nel titolo RT indice di contagio a 0,82 ma il rischio resta. Ricordiamo che l'arancione scatterebbe con l'RT superiore dall'1 in su, superiore all'1 e dall'1,25 si passa al rosso. Oggi la classificazione dell'Istituto Superiore di Sanità, la prudenza di Zaia e c'è un articolo di Filippo Tosatto. Un tempo il venerdì era giorno di pesce, ora riservato la classificazione del rischio epidemiologico. Con un paradosso colorato che riguarda il Veneto, collocati in area arancione alla luce dell'esplosione dei contagi e dei ricoveri, da una ventina di giorni la regione conosce un calo accelerato di nuovi casi e una flessione progressiva delle degenze in area medica e i rianimazioni. L'andamento del coronavirus, come fa sapere l'assessore alla salute Emanuela Lanzarin, corrisponde a un indice di trasmissibilità dello 0,82, largamente compatibile con la soglia minima di rischio moderato prevista dal fatidico algoritmo adottato dall'Istituto Superiore di Sanità. In effetti i nostri sono sempre stati numeri da fascia gialla, commenta Luca Zaia, non abbiamo titolo per restare in arancione, si tratterebbe di una scelta prudenziale da parte degli scienziati magari dettata dall'entità di infezioni sul territorio tuttora elevata. In ogni caso noi ci atterremo alla loro valutazione indipendente come è accaduto nel passato e si vedrà appunto quella è la decisione che verrà presa oggi. Accanto all'articolo c'è anche un'infografica che mostra il report Veneto. Finora sono 8.000, quindi i dati aggiornati alle 17 di ieri sono 8.416 le persone decedute in Veneto e i ricoverati in terapia intensiva sono 326-310 nelle strutture territoriali. Andiamo avanti, in questo caso parliamo del capitolo che riguarda le conseguenze sull'economia bellunese del coronavirus. Siamo a pagina 6 e a pagina 7 con le testimonianze di rifugisti, di operatori del turismo in montagna. Il rifugio è chiuso, sacrifici, sogni e scorte alimentari da gettare via. L'articolo è di Francesco Dalmas. La Resei carico da 100.000 euro per la stagione mai partita, non so quanto, protranno resistere i miei collaboratori. E c'è appunto questa testimonianza di Massimo Manfroi che in questo nido d'aquila appena sotto il col Margherita, davanti a un panorama strepitoso, ha investito tutti i risparmi di famiglia. L'estate scorsa era andata bene dopo l'interruzione della stagione invernale a marzo, quindi anziché chiudere a settembre come da calendario è continuato fino a novembre. E poi, quando è arrivata la dama bianca, ha dovuto chiudere, ma non per la neve, che ci faceva già sognare, bensì per il DPCM. Nella pagina successiva ci sono altre testimonianze, come quella di Fulvio Valt, guida la scuola equip a Falcade e dice che i maestri di sci sono allo stremo, ci hanno fatto chiudere senza alcun preavviso. E ancora, Alessio Soccol che vende frutta e verdura a Donti, in Val di Zoldo, lavoro, ma solo a metà, residenti e villeggianti hanno tagliato le spese. Marzia Balestra ha un camping e affitta sci, sempre in Val di Zoldo, a Pecol, al camping Civetta, incassi ormai azzerati, ma abbiamo muti da 8.000 euro al mese. In 11 mesi siamo stati ristorati con 3.000 euro. Lo scorso luglio racconta le due attività che conduco, danno lavoro a 8 persone della famiglia allargate e a 7 collaboratori stagionali. Viviamo in 15, tra il camping e il noleggio, anzi vivevamo perché i collaboratori sono a casa, qualcuno in casa integrazione e noi di famiglia da mesi non ci facciamo la paga. Si legge sempre nell'articolo. Ritorniamo nelle pagine espressamente dedicate alla provincia di Belluno, siamo a pagina 21, in questo caso ritorniamo alla questione al disastro di Alverà in cui aveva perso la vita Carla Catturani. Il giudice, la procura indaghi su Alverà, si legge, bocciata la richiesta di archiviazione della seconda denuncia delle parti civili di Carla Catturani, trovati responsabili. Stiamo parlando della terribile frana costata la vita da Alverà a Cortina all'ex anestesista del Codivilla, Carla Catturani, nel tragico agosto 2017, travolta dalla colata di acqua e fango. Il giudice, Angela Feletto, ha respinto la richiesta di archiviazione della procura sulla seconda denuncia delle parti civili, i parenti della donna, e ha chiesto al PM di fare altre indagini per individuare le figure competenti dell'epoca tra società Faloria, Comune, Veneto Strade e Protezione Civile, nuovi soggetti che potrebbero finire sotto inchiesta. Oggi di fatto c'è solo un imputato per quella tragedia che è l'ex dirigente di Veneto Strade, Sandro D'Agostini, a processo per omicidio colposo in relazione alla morte di Carla Catturani. Furono infatti archiviate le posizioni di tre coindagati della prima inchiesta, e cioè l'ex sindaco Andrea Franceschi, l'ex assessore Stefano Verocai e responsabile dell'ufficio lavori pubblici del Comune di Cortina, Stefano Zardini Lacedelli. 15 giorni fa, quindi, la decisione che apre nuovi scenari e implica appunto nuovi enti tra società Faloria, Comune, Veneto Strade e Protezione Civile. Leggiamo ancora un paio di notizie e una notizia e poi passiamo al gazzettino, torniamo un secondo indietro, vediamo, andiamo a Soverzene in questo caso, siamo pagina 33, prime richieste per gestire l'alimentare, Soverzene e Sogna un centro di nuovo vivo. Il Comune, dopo il bando per il negozio, ha messo in vendita anche un appartamento vicino al vecchio municipio, l'articolo di Enrico De Colle. Le prime persone interessate ad aprire la bottega di alimentari e caffetteria nel Comune di Soverzene si sono fatte avanti, quindi è una storia di resistenza nei nostri paesi della provincia di Belluno. Si prospettano, si legge nell'articolo, buone notizie per la lotta allo spopolamento del paese con la possibile riapertura del negozio polifunzionale, ma anche con le iniziative che stanno venendo avanti all'insegna della viabilità a due ruote per Soverzene e amministrazione ed intorni, scusate. L'amministrazione comunale guidata da Gianni Burigo ha emanato in queste settimane due bandi pubblici, uno per la gestione del negozio di alimentari e l'altro per la vendita di un appartamento. Il primo bando, quello per i negozio di alimentari, scade il primo febbraio ed è riservato la gestione di uno spazio che sarà adibito a negozio di alimentari, ma anche panificio e caffetteria. La novità è che stavolta si trova nel centro del paese e non quindi dove c'era il vecchio negozio analogo, una scelta che dovrebbe rendere tutto più appetibile e infatti ci sono già degli interessati e questo fa ovviamente ben sperare. Quindi si attendono possibilmente buone nuove. Passiamo al gazzettino. Ci fermiamo un secondo all'edizione del Nord-Est che parla del caos vaccini. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, nelle scorse settimane. I tagli continuano. Arcuri, dosi già ridotte di quasi due terzi e Pfeiffer annuncia ritardi per altre tre settimane. Zaia, presidente del Veneto, dice imprenditori veneti pronti a produrre i sieri. Contagi in calo, oggi si decide la fascia. Ecco qui a pagina 2. L'azienda farmaceutica Pfeiffer, quella del vaccino che è in corso di somministrazione in tutta Italia, ha già iniziato con tagli alle regioni per altre tre settimane e ora sono annunciati. Zaia dice pronti a produrlo. Le fiale non bastano, la Toscana afferma le nuove iniezioni e si rischia blocco totale. Il governatore Veneto, imprenditori pronti a siglare accordi per realizzare il prodotto. Ritardi, slittamenti, compensazioni e regioni che rischiano di non somministrare la seconda dose in tempo. A meno di un mese dall'avvio del piano vaccinale italiano, il bilancio non è dei più rosei. Se le dosi somministrate hanno ormai superato abbondantemente il milione e già quasi 20.000 persone hanno ricevuto anche il richiamo, ora le vaccinazioni hanno rallentato e hanno fatto slittare l'inizio dell'inoculazione agli over 80. Anche la prossima settimana infatti le consegne del vaccino Pfizer saranno il 20% in meno di quelle previste. Ad annunciarlo è stato il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri aggiungendo che per questo abbiamo già dovuto ridurre di quasi due terzi le dosi di vaccino somministrate. Ma non solo. A peggiorare la situazione c'è anche il fatto che l'azienda farmaceutica ha già comunicato alle regioni che non potrà integrare le dose mancanti e che anzi ritardi si protrarranno per le prime due settimane di febbraio. Il tutto proprio mentre l'Unione Europea ieri annunciava che dalla prossima settimana le consegne riprenderanno secondo i piani. Quindi una discrasia evidente. C'è la rabbia delle regioni, ha attaccato il governatore della campagna Vincenzo De Luca ma anche appunto il governatore del Veneto Luca Zaia che nella consueta conferenza stampa di aggiornamento ha ribadito che ci sono imprenditori veneti che sono disponibili alla produzione di vaccini tramite accordi con Pfeiffer o altre aziende produttrici. In pratica alcune aziende locali alcune delle quali peraltro hanno già accordi con Pfeiffer per altri farmaci metterebbero a disposizione gli stabilimenti per ottimizzare costi e produzione. Un discorso che sarebbe già stato avviato tra un'azienda padovana e il colosso farmaceutico. Quindi è evidente la preoccupazione per i ritardi. Intanto si accelera su AstraZeneca. Obiettivo via libera già il 17. Stiamo parlando dell'altro vaccino. L'EMA è al lavoro per cercare di dare l'ok al prodotto che è fondamentale per l'Italia. Le vaccinazioni in Italia oggi sfiorano quota 1.300.000. Vale a dire che se si fosse tenuto il ritmo giornaliero raggiunto la scorsa settimana si sarebbe potuto raggiungere l'obiettivo fissato dal commissario per l'emergenza Arcuri di 6 milioni di vaccinati entro marzo. Ora per la diminuzione delle dosi fornite dalla Pfeiffer diventa determinante avere a disposizione prima possibile tutte le 8 milioni di dosi attese dall'Italia entro marzo da AstraZeneca Oxford. Perché ciò avvenga però serve l'autorizzazione dell'EMA che è l'ente regolatore europeo. Un ok definitivo che è atteso per il 29 gennaio e che come si apprende da fonti italiane vicine alla struttura potrebbe essere anticipato di 1-2 giorni. A confermarlo è anche il premier austriaco Sebastian Kurz che ieri ha fatto sapere di star lavorando con gli altri paesi dell'Unione Europea per un'approvazione più rapida e con meno burocrazia per AstraZeneca e altri vaccini in modo quindi da riuscire a continuare il piano vaccinale senza eccessivi ritardi. Andiamo all'edizione di Belluno del Gazzettino. Il titolo di apertura è dedicato al Covid che rallenta e gli ospedali sono verso la normalità e Rasi anticipa che da febbraio potrebbero tornare le visite specialistiche. A Borgoval Belluna centro per disabili sospeso da 20 giorni i familiari dicono cerchiamo di ripartire. E poi un'altra notizia che riguarda le grandi opere Belluno fuori dal piano. Stiamo parlando del piano della lista di opere strategiche per il paese che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Parlamento. Ieri è arrivata la denuncia di Confindustria Belluno Dolomiti che dice che ancora una volta la provincia di Belluno è completamente fuori dalla lista delle opere considerate strategiche quindi dai grandi corridoi stradali, ferroviari, nazionali e internazionali. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, cassa integrazione, la Cisla, un passo dal Baratro, la provincia di Belluno infatti è record di cassa integrazione causata dalla crisi Covid, record Veneto ai numeri più elevati. E poi ancora pieve di cadore, dichiarata immagine astronomica del giorno, la NASA premia la foto di Alessandra, la foto di Alessandra Masi, una bella notizia in questo caso. Fermiamoci un attimo a quello che riguarda il piano ricostruzione. Belluno tagliata fuori. La denuncia di Confindustria dopo la lista delle 59 opere pubbliche strategiche per il paese con investimento di 60 miliardi di euro. La nostra provincia non c'è. Nessuna traccia di Belluno nella lista di opere pubbliche strategiche per il paese che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Parlamento. L'opera strategica per eccellenza, a cui fa riferimento la numero uno degli industriali Loren Bertone, è il prolungamento dell'autostrada A27, fondamentale per noi, per Venezia, ma anche per il nord Europa. Non per Roma, però. Dopo vaia e la constatazione della fragilità del nostro territorio, questa decisione ci lascia perplessi. La lista con le opere ritenute strategiche per l'Italia, contenente anche i relativi commissari straordinari che dovranno occuparsene, è stata inviata alle Camere mercoledì. Si tratta nello specifico di 59 opere pubbliche, 30 commissari, oltre 60 miliardi di investimenti da finanziare con il famoso Next Generation Europa, un fondo europeo approvato nel giulio 2020 per sostenere gli stati membri colpiti dalla pandemia. In tutto questo Belluno semplicemente non esiste e non è mai esistita nonostante i problemi infrastrutturali del territorio che sono noti a tutti. L'appello quindi di Loren Bertone ai rappresentanti politici e istituzionali del territorio, a cui chiede un colpo di reni perché il nodo infrastrutturale bellunese entri nella programmazione. Quindi si annuncia battaglia, come si legge nell'articolo di Davide Piol. Sul tema è intervenuto anche il presidente della provincia, Roberto Padrin, deluso, però dice anche risaliremo grazie alle Olimpiadi. Il presidente della provincia non nasconde la sorpresa, poi però guarda il bicchiere mezzo pieno grazie al 2026. Non posso dire di non essere sorpreso, dice Padrin, ma sicuramente le strategie relative alle Olimpiadi, pur non rientrando espressamente nella lista opere per i paesi ci potranno dare una mano a colmare il gap con i territori limitrofi. E non ci va per il sottile invece l'onorevole Dario Bond, deputato di Forza Italia, che afferma in una nota diffusa ieri, ennesima dimenticanza del bellunese, così non va. Andiamo avanti, parliamo in questo caso della seconda ondata del coronavirus con gli ospedali che stanno ritornando verso la normalità, si legge nel titolone, ospedali verso la normalità presso le visite specialistiche. 40 nuovi positivi, nessun decesso, il virus frene, si pensa a recuperare le prestazioni arretrate. I reparti covid si stanno svuotando, ma tra i degenti anziani anche due pazienti che hanno meno di 50 anni. Solo 40 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, terapie intensive sempre più leggere, anche in questo caso la curva è in discesa, si legge nell'articolo di Davide Piol. Un'altra notizia positiva è che nelle ultime 24 ore nessuno ha perso la vita a causa del covid. Non accadeva da mesi e l'obiettivo dell'Ustolomiti, ora che il virus sta dando segni di cedimento, è di riprendere con le attività ordinarie degli ospedali. Le misure adottate, l'impegno e l'attenzione di questi mesi hanno portato a un risultato tangibile, commenta Rasi Caldonio, il commissario Huls. Alcune aree covid sono state chiuse e stiamo riaprendo unità operative e sospese. È fondamentale però non abbassare la guardia e mantenere i comportamenti responsabili. È interessante poi scoprire l'età dei pazienti covid perché, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non ci sono solo anziani. 24 tra i ricoverati hanno un'età compresa tra gli 80 e gli 89 anni, 23 tra i 70 e i 79, altri 20 hanno tra i 50 e i 69 anni, 11 sono oltre a 90 anni e 2 hanno meno di 49 anni. Per quanto riguarda un'altra notizia di cui leggevamo lancio, parliamo del centro di urno di Borgo Valbelluna, a Melle, un centro che sta andando avanti a Singhiozzo, la rabbia dei familiari in una lettera. Prima dimezzato, poi sospeso per quasi 20 giorni, il servizio del centro di urno noi altri di Borgo Valbelluna, che accoglie persone disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, rappresenta una fonte di preoccupazione sempre maggiore per i familiari degli ospiti. È una vera vergogna, raccontano, i nostri ragazzi stanno subendo la deriva di una quotidianità negata, di rapporti sociali interrotti, di un benessere psichico violato per l'inettitudine di chi ha la capacità e mansioni pagate per dare loro servizi, di cui hanno diritto. Il 2021 è cominciato con la chiusura totale del centro perché hanno dovuto spostare i personali in un'altra struttura, gestita dalla stessa cooperativa, che aveva una carenza di organico, causa Covid. Quindi c'è la rabbia dei familiari. Leggiamo ancora una notizia e poi chiudiamo la rassegna di oggi. Ci fermiamo a quello di cui abbiamo anche parlato ieri, le accuse del comitato, siamo ad agordo in questo, dialogo costante con l'Ulss, l'ospedale non è ignorato. Alle accuse del comitato di trascurare la sanità replica subito il sindaco Chissalè dal comune, sempre piena disponibilità a risolvere le varie criticità che emergono. Come si leggeva ieri, l'Ulss e il comune sono stati accusati dal comitato sanità gordina di occuparsi troppo poco delle sorti dell'ospedale di Agordo, però i sindaci di Vallata non ci stanno e ribadiscono al contrario il proprio costante interesse. interessamento. Abbiamo dialogato in più occasioni con l'Ulss 1 perché trovi soluzioni a varie problematiche emerse nelle ultime settimane, dice il primo cittadino di Agordo Roberto Chissalè. Il nostro nosocomio non chiuderà, afferma il sindaco di Roccapietole, Andrea De Bernardin. Per quanto riguarda la situazione del pronto soccorso, dice ancora De Bernardin, fu i tre primi a proporre di investire in questo progetto una parte dei fondi di confine. Da allora iniziò una lunga bega tra sindaci a favore e contraria l'idea. Dopo anni di dibattito venne deciso di impiegare 2 milioni e mezzo di euro, comprendo il comitato e le sue critiche a livello politico perché la politica esiste anche all'interno di questi organismi, come capisco anche che ci sono delle problematiche e che sono stati fatti degli errori. In effetti non è accettabile far aspettare il proprio turno agli utenti all'aperto con temperature molto basse come quelle del periodo. Però cerchiamo di vedere anche il lato positivo e cioè che il cantiere è partito. E si vede la foto che era stata mostrata anche ieri delle persone in fila per entrare all'ospedale di Agordo con meno 12, anche con una temperatura di meno 12 gradi, dopo le proteste e la replica dei sindaci che confermano l'interesse nei confronti della struttura. E con questa notizia chiudiamo la rassegna di oggi, vi aspettiamo puntuali domattina alle 8.30 sulle frequenze di Radio Piave e subito dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Seguite le notizie che pubblichiamo sul nostro sito internet all'indirizzo www.amicodelpopolo.it A tutti un sereno venerdì, un buon fine settimana, grazie per l'ascolto e a prestissimo. Arrivederci!